Quando le persone mi chiedono, ma tu da dove vieni? Io non riesco a rispondere. Non riesco a dare una definizione di me. E' caro Federico, sono arrivato finalmente a casa e sono stanco, sono stanco stremato. E' stato veramente un anno duro, ho contatto col mondo che non conoscevo. Sono una persona? No. Non hai pianto? No. Non hai male? No. Sono una città della Sicilia, della Calabria, del Molise, della Lombardia. Se va bene, il trading butto dentro anche lei. Prende la macchina a lavoro. Prende la macchina a lavoro.